Bene a tutti ragazzi, oggi siamo qui su minecraft insieme a D.A.T.E.D.I.H.A. e D.S.O.S. Salve ragazzi! Andremo a fare qualche partita, anche se Minecraft in questo periodo non è proprio al massimo della forma, ma faremo qualche partita nei server, quindi ci muoviamo e andiamo subito a fare una partita a Hide and Seek, ci andiamo in partita. Ok ragazzi, siamo partiti. Io in questa mappa conosco un luogo proprio insgamabile, nessuno ci troverà mai qui. Ti sei nascosto? Sì Ok, sono accanto a te. Siamo belli che insieme. Questo è il mio punto segretissimo, quindi se mentre giocate a Minecraft vedete qualcuno messo qui, molto probabilmente sono io. Perché la gente non sa che puoi entrare in questo recinto, cioè che puoi aprire il cancelletto, quindi ci mettiamo qui, nascosti. Meglio se ti metti nel blocchiotto libero, ci lo stiamo un attimo. Ok. Tanto, a me non cambia. Ok. Siamo nascosti. Ragazzi, non trolliamolo un po'. Non prendibili. No, non devi fare queste cose, te lo dico sempre. Lui deve sempre trollare. Allora, non si può perdere qualcuno. Sì, deve prendere fuoco. Ma come le fai a te? Come si faceva queste cose? Con lo smeraldo. Ah, spiego punti, vabbè dai, non mi fai che niente. Eh, il pink. 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 Pig. Vabbè, casomai comunque un po' di partitaiale. Ci hanno visto! No, non ci hanno visto. Ah, ci è cascato. Vabbè, ovvio. Vabbè, ovvio che li taglio. Possiamo stare qua cinque minuti a non fare niente, a girarci i pollici. C'è mi che spira under then. Boh, parla ora. Beh, qua nessuno ci sta vedendo. Siamo infallibili. Mancano quasi tre minuti. Sono tutti a cercarci. Ci sono nove blocchi e sei blocchi. Sei cercatori e sette blocchi. Sono cadendo come mosche. Quindi dobbiamo stare attenti. Sei rimasti. Di quei due siamo io e Eddie. Siamo qui nascosti. Tanto che stiamo andando uno accanto a noi. Uno sopra di noi, attento. Eh, però vabbè, comunque... Non trollare adesso. No, no, no! Non ho idea! Ok. Questa è la fine. Questa è la fine, credo. La finisci di fare versi così! La finisci! C'è la mia stessa nemica accanto! Poi io mi sono mosso! Eh, tu fai... Fai versi a caso! Ok. Vai, parliamo. Ragazzi, mancano due minuti. Mi stanno per sgamare. Ok. Questo è un posto che... Cina, però. È un hub che si stava per fare sgamare. Sì, stavo per fare sgamare. Ok. Mi sono mosso. Forse esco. Ma che fai? C'è quello che ci ha visto sicuro! Ci hanno visto sicuro! Ok. Abbiamo una fortuna. Abbiamo una fortuna che c'erano quei due tisti che scappavano. Sennò eravamo no morti di più. Se entrano, dobbiamo essere qui. Uno bisogna liberarti e scappare via. Ti auguro buona fortuna, però il video è mio. Oh mio Dio. È la fine, è la fine, è la fine. Esci! Oh mio Dio! No! Dai, mi entrai frazzi, è finita. Mi hanno pregato. Hai perso. Devi uscire prima! No! Ok. Fra, qua mi devi solo seguire, sennò perdi. Ok. Ok! Ma tu chi sei però questa cosa? Ok, ok ragazzi. Tu chi sei? Cina. L'altra Oculus. Sei tu questa qua? Io sto saltando, sono fermo e salto. Ehm... Non ti vedo. Ok ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto, sto correndo da te, mi hai visto? Ok sei tu. Ok andiamo, andiamo. Muoviti, muoviti! È finito il tempo, ti ho perso! Non mi interessa, non mi interessa. No siamo morti. L'abbiamo dietro, ma che sei? Ti ce l'ho dietro. Corri! Aiuto! Io non so dove stai. Qua, qua. Ok mettiamoci qui al momento. Non so chi sia, non so chi tu sia. Mentre ragazzi. Aiuto. La mappa mi ricordava forse un'altra scusa. Io sono alla libreria. Perché sei nella libreria? Dovevi essere... Eh non so dove mettermi, mi sono messo qua al volo perché... Aspetta. Ok cercano di fare parkour nella libreria. Aiuto ragazzi. Ok. Mi hanno nascosto qui. Aspetta! Si chiama Crazy Pig? Crazy Pig, sì. Allora sei qui nella mia zona, aiuto. Ok, tu sei cacciatore o sei vivo? No, no. Sei una... Sei una... Eh, dove sei messo scusami? Sei messo... Sei messo... Esci fuori, io sono dalla vetrata. Ah ti ho visto? Sento questo qua saltellando. Sì. Io sono davanti a te. Nella libreria c'è tipo il... La foglia. Sono io. Esci, esci. Accanto alla libreria. Questo è il punto perfetto. Mi vedi? Si, ti vedi. Sei accanto a me. Mi vedi davanti a me. Vieni allora. Ah ma tu sei dentro o fuori il posto? Segui la foglia. Io sono fuori. E io sono dentro. Segui la foglia che si è appena posata. Salta. Aspetta. Eh, ti devi muovere e saltare. Eh, non so come si fa. Eh, devi andare un po' avanti. Eh, non posso perché sono in un blocco solo. Ah, tu vedi poi io sono dalla vetrata, no? Io vedo dalla vetrata dove ci sono i tappetini gialli e viola. Vedi? Si, vedo. Mi vedi che salto? Eh no, non ti vedo saltare. Eh. Perché orsi non siamo nella stessa... Se... Stai... Stai... Sei in una scaffale. No, io sono fuori dalla vetrata. Eh, io sono dentro. E io sono dentro. Tu sei in una scaffale, ora sei dentro una fo... Accanto ad un'altra foglia. No, no, io sono dietro. Dietro alla foglia c'è una specie di libreria. E io sono quella... Io sono nella... Io sono nella libreria. Sono dentro. Mi hanno preso! Aiuto! Corri! Scappa! Cina, gli sono scappato davanti agli occhi e non mi... Entra nella libreria, finita me, finita me, finita me, finita me! Non posso, Cina mi sta cercando! Eh, la scuola di da noi! Vediamo qualche sei piante, si confonde sicuro. Ti stai in seguito? Tipo uno si chiama coffee, coffee... No, 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 no. Eh... Sì, è là sopra dove ero io! Coffee Burger! Ah, è là! Corri! 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 Sono dentro, sono dentro, sono dentro! Sono dentro, sei dentro, mi vedi? Sono tipo in alto! Sì! In alto! C'è tipo... C'è tipo... C'è tipo... C'è tipo... C'è tipo... C'è tipo... Ah, ti ho visto, l'hai messa nella vetrata! Sì, 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 accanto a me sei, accanto a me sei! L'igno! Qua! Sì! Non puoi neanche metterti qua! Non puoi metterti qua! Non puoi metterti che sono io! Mettiti... No, 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 mettiti in quello accanto! Mettiti dall'altra parte! Vieni, Cina! Sicuramente ora si può... No, non scendere! Buttati, fidati! No, io sto qua! Mancano dieci secondi! Mancano dieci secondi, quindi... E infatti! Trolleriamo! Trollerino! 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 Uh, abbiamo vinto! Nabi! Nabi! Ragazzi, ci siamo stati sulle Skywars dopo una... una quasi vittoria... è una vittoria nell'Iden Seek! Ora ci siamo nelle Skywars, vediamo come va! Io sono proprio un pro di PvP, ma... Eddie è molto bravo! Eeeh... Ok! Là c'ha i piedini in diamante! Vediamo... Piedini di ferro... Ok... I blocchi saranno sempre... Come sta andando a te? Sono full iron! Ottimo! Io sono... uno di diamante, uno di ferro... Poi ho un mix... Frecce... Arcom, non ho le frecce... Di solito fai un mix! Sì! Quindi, vediamo cosa troviamo adesso... Io nel frattempo cerco di spostarmi al centro! Ma... Vuoi sempre pushare tu? No, voglio solo spostarmi al centro! Ok... Allora... Oh, smeraldo! Vediamo che troviamo! Mi piacciono questi! Che trovo? Sto vedendo... Eh... Dei piedini di ferro incantati con... Atterraggio morbido! Buono! Vedo che si è messo bene! Eh... Abbastanza, sì! Faccio una specie... Una specie di muretto per evitare di... Volare via... Scontri con le frecce... Qua c'è del diamante... Piedini di diamante... Eh... Li vuoi? Sì! No! Passo! Elmo incantato che... Può servire un'area utile! Presto! Ah, c'è un altro diamante! Perfetto! Un altro diamante... Piedi... Ho solo 8 pigni di diamante! Le isole esterne sono... Tu? Sei full diamond? No, no, no! Ho tipo qualche... Ho due pigni di diamante! Ne ho due pezzi di diamante! Mi stanno attaccando! Eh... Dove sei? Questa volta non sono stato io! Eh... Però dove sei? Eh... A me pure stanno attaccando! No! Ah, non sei tu! Eh... Aspetta, appena si vicina gli tiro! Aspetta, questo mi serve a me! Vai! Siamo due contro uno! Attento! Gli tiro la bomba! Non fai effetto! Ucciso! Abbiamo vinto? Ah no! Hai pensato fossero... Metti che eravamo due v1 ma... C'era... Intendere che eravamo due contro questo qua! Vabbè dai! Eh... C'ho questo pezzo che dico così! Stanno arrivando le misce! Dietro ci sono due! Oh! E me lo fa tirare! Ah! Così devo piazzare! Stanno arrivando! Stanno arrivando! Ammi la mano! Cioè... Cerca di scappare! Cerca di scappare! Cerca di scappare! Sono scappato! Ci vengo a prendere! Eh... Però mi sono inseguito in trontata! Mi sono inseguito in trontata! Oddio! Perché sei finita in quell'isola? Eh... Sono deciso a scappare ma mi hanno ucciso! È quello che mi ha ucciso! Vendicami! Vendicami! È solo lui! Eh... C'è l'altro team! Vabbè sei morto! Girati e combatti! Ma stai creando una guerra! Tu sei... Sei boxato qua! Sto buttando giù! Che cosa? Ah! Non mi piace! Non mi piace! Non mi piace! La vita di... Skywars! Dopo la grande vittoria di Eddie! Mmm... Non mi prenderei in giro! Tu sei durato meno! Eh... Tu mi hai abbandonato! Sei un infamone! Allora... No! Non è vero! Quindi io sono pazzo! Sì! Tu sei sempre stato pazzo! No! Non lo so! Allora... Vediamo cosa c'è qua! Atterraggio morbido sugli stivaletti! Tieni quelli in diamante se vuoi! Oh! Thank you! Thank you! A noi già ce li ho quelli in diamante! Già ce li ho! Mmm... Ho quelli in ferro con atterraggio morbido! Non so se ti servono! Un libro! Pill of fire! Vediamo! Spacchiamo un po' di cose! Spero che questo video di Minecraft vi piaccia! Perché se vi piace ne porterò immediatamente... Ne porto altri! No! No! Che hai fatto Cina? Sei caduto con la TNT che ti ha tirato il gioco eh! Sì! Ora facciamo partire i titoli di coda! Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Grazie a tutti.